Ciao, immaginiamo di aver scaricato da internet un file compatibile con Minecraft Education Edition, un mondo Minecraft intendo, oppure qualche ragazzo o qualche insegnante ci sta passando questo stesso file su una chiavetta USB. La domanda a cui rispondiamo con questo video è come importare questo mondo all'interno di Minecraft Education Edition. Vediamolo insieme. È sufficiente cliccare il pulsante gioca, identificare questa freccia che punta verso sinistra, cliccarci sopra e accedere al percorso in cui abbiamo salvato il mondo. Io voglio per adesso importare il mondo urbino. Apro e me lo trovo disponibile tra la lista dei miei mondi. Me lo trovo in testa come primo mondo perché è anche l'ultimo che ho giocato e che ho esportato. Guardate cosa succede invece quando provo ad importare questo mondo che è stato creato il 13 marzo 2018. Lo apro e non me lo ritrovo in testa alla mia lista di mondi. Ma devo scorrere l'intero elenco andando approssimativamente verso quella data e vediamo un po'. Eccolo, 13.03.2018 e adesso posso eventualmente cliccare su questo mondo. Una volta che l'ho avviato e giocato, ovviamente io faccio ESC, salvo ed ESCO, in questo caso mi trovo che questo mondo è stato giocato l'ultima volta il 9 febbraio 2019 e me lo trovo in testa alla lista. Quindi l'unica problematica è quando importate un mondo più vecchio dell'ultimo mondo a cui avete giocato andatevelo a cercare nella lista. Questo è il pulsante di importazione. Spero che questo tutorial vi torni utile e ci vediamo al prossimo video. A presto!